Tanti auguri a lista, tanti auguri a lista. I compleanni non sono tutti uguali. Papà ti ha lasciato un billetto. E neanche i matrimoni. Mamma, hai visto la mamma? Ma dov'è? Mamma. Non ti spaventare e non mi prendere per matta. Sto bene qui dentro e voglio rimanerci. Nell'armadio. Questa è la mia storia. Se lo raccontassimo in giro ci riderebbero in faccia. Ma potrebbe essere la vostra. Mia mamma ti ha fatto un lifting quando mio papà l'ha lasciata. Non pensavi a dirlo, no? Io sono buddista. Io prego davanti a un armadio. Mi fassi la colla quella dorata. Quando ha intenzione di uscire da lì? Quando torna papà. La storia di una donna che attraverso un armadio ha dato un nuovo inizio alla sua vita. Che vogliamo fare mamma? Io ci ho creduto mamma. Alle sue promesse. Al nostro amore. La maestra ha detto che le tartarughe d'inverno vanno in letargo perché hanno freddo e sono stanche. Ti senti come le tartarughe? Come le tartarughe. Solo al cinema. E nei migliori armadi.